Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Dario Sti e oggi siamo su BFRPG pronti ad evocare per le nuove Apex Uteria e l'altra era Uifuoco quindi prima di tutto ci hanno dei nomi bruttissimi secondo me però Uteria se non voglio dire cose affrettate però o è la mamma di Artù o è la figlia e poi c'è Uifuoco che è un Apex su delle Zodiac quindi B-O, Uifuoco non so la storia poi non avevo visto che c'era il neo Avalon a tre gemme buono, buono, buono se non avete Parsifal, Viviano Morgano Merlino tutte queste qua però non sono, cioè arrivano massimo a sette stelle quindi se volete tentare a evocare, tentate però non hanno assicurato niente ad Omni ah sì, per chi non lo sapesse per chi non lo sapesse, adesso ve la faccio vedere evocando in esterna, grazie all'aiuto della mano magica però questa volta non di Capri, ma di un'altra persona questa persona mi ha fatto trovare il signorino Gigamesh Anima, no l'avevo trovato guardiano l'avevo trovato guardiano se non sbaglio però con una rana è arrivato Anima speravo in Rex però e ci piace lo stesso, anche così quindi ho raccimolato 25 gemme non chiedetemi come ma ho abbastanza gemme nel baule più alcune dei regali giornalieri e robe varie però sono arrivato a 25 gemme quindi anche questa volta ci sono i bonus di evocazione quindi alle seconde evocazioni vi danno un premio terza un altro quarta e quinta vi danno altri premi e quindi avevo intenzione di farle tutte e cinque e speriamo in bene partiamo con la prima allora, hanno aumentato il retap in teoria di trovare delle sette stelle però questa non lo è perché ovviamente la prima evocazione deve andare sempre male chi è che è? con la R? iniziavo? sì, con la S con la S? Sareas Sareas mi mancava Sareas mi mancava della bacia di Sirius la bacia di Isgria e di quella roba là sì, era carino magari è utilizzabile per il terzo arco però seconda evocazione uuuuh direttamente porta onirica cioè, uoh sette stelle cavoli allora, in teoria o il fuoco sarebbe utile o anche uterno ma no Victor cazzo, no ma perché? ma non può farmi così il gioco ma Victor no, non mi piace ah, sì hanno aumentato il retap delle sette stelle però però non è detto che che si trovino quelle del retap hanno semplicemente aumentato il retap dei sette ed è niente porta gialla che si spacca in multicolore vediamo che vecchia unità è ah, lui non l'ho mai avuto quindi non so cos'è non mi ricordo come si chiama Zeal Zeal non so cosa faccia non mi ricordo però sono comunque altre unità che non ho mai avuto quindi mi ampliranno lo spazio vediamo se con la quarta con la quarta vediamo niente dai no non va bene non va bene alla fine per Gilgamesh comunque fatto in tutto sette otte evocazioni uh FIVA FIVA che ha appena ricevuto l'onirica anima ah FIVA questa è la mia seconda anima la avevo portato sulla guardiano poi avevo trovato l'anima l'avevo lasciata là questa qua sarebbe la mia terza FIVA in totale quindi boh vediamo se una FIVA devo portarla avanti a onirica perché vabbè perché sì vediamo cos'è uh porta nera speriamo in bene che sia una dei due allora UTERIA best spark ever oifuoco oifuoco viva le hit grazie tocco magico grazie tocco magico tocco divino no non ho fatto lo screen cavolo dimmi che è Rex ti prego se è Rex urlo no è l'orbo cavolo però ci si può provare a mandarla a Rex oifuoco 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 allora tra oggi è venerdì quindi subito il primo giorno di rate up quindi magari sabato e domenica daranno qualche biglietto e a me servono due vocazioni per per prendere il biglietto giovedì prossimo ci sarà ancora il rate up quindi forse proverò in totale a fare altre due vocazioni e prendere fare anche così poi la terza e sperare in UTERIA comunque adesso vediamo se riesco a cambiarle tipo in Rex a caso ad UTERIA ho fatto fondi ho fatto fondi e c'è il coso da 7 le omni allora UTERIA no no UTERIA UTERIA si è toglie con la leader skill toglie troppo con gli spark se riuscite a far sparkare bene in totale 200 più il danno da spark extra e robe varie mentre beh oifuoco è una plumataci 2.0 quindi tanta roba vediamo se riusciamo a farla cambiare tipo allora mi rimangono tre rane più altre tante rane più tante altre rane nel baule allora speriamo in Rex speriamo in Rex Rex ho animo o distruttore si sente strano si sente strano ed è guardiano no guardiano no buono guardiano vai tocco magico ok tanta gente che c'è ragazzi stiamo registrando al parco ma c'è tanta gente vediamo se si sente strano si sente strano si sente strano lord che bello ma si tanto non abbiamo unità su cui fondere quindi buttiamocelo ragazzi ditemi voi se avete evocato però il fuoco e uteria nel retap se le avete trovate quante gemme avete usato dopo quante evocazioni siete riusciti a trovarle dimmi che ti senti strano rex dai no seriamente un altro guardiano ma che cosa significa adesso è diventata una questione di onore ok spero non mi prenda più un po' più il culo perché direi che da lord a guardiano da guardiano a lord da lord a guardiano non va bene ho preso due rane dal baule vediamo se cambia qualcosa si sente no si sente male ok dai se no devo prendere altre rane e sprecarle tutte quante no devi fare sì devi fare sì evoca let me see clicca si sente si sente strana distruttiva distruttore yes tocco magico per la sesta rana che poi alla fin fine non è neanche rex però vabbè il distruttore ci piace poi 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 ultima cosa sono giusto a fare così tante gemme perché ho fatto due delle quattro sfide degli apex ho fatto gigamesh no ho fatto sheriff e la ragazza ezeva fake mi mancano surt non lo farò mai tranquilli lascerò l'anniversario fino alla fine dell'anniversario non lo farò non sono capace e ho provato il gigamesh senza troppo senza troppo riuscirci e adesso c'è uteria e l'altra quindi proverò a fare loro due e vi farò poi un video per come ho fatto che squadra ho portato per fare quelle due missioni quindi noi ci vediamo al prossimo video da Darius T la la mano magica è tutto ciao ragazzi ciao